Lavori in corso sull'intera area di piazza Marcolini in pieno centro storico a Fano proseguono dunque le operazioni di riqualificazione e ammodernamento di uno dei punti lasciati a se stessi in tutti questi anni. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di rendere questo luogo più bello, partecipato e moderno. Diversi infatti gli interventi come quello dell'installazione di una nuova fontana, sedute, illuminazioni sceniche, aree verdi e nuove pavimentazioni. Alle mie spalle vedete oggi realizzata tutto quello che è una predisposizione della canalizzazione della fontana, della nuova fontana che verrà installata al centro di questa bellissima piazza, una fontana dove all'interno abbiamo già predisposto la parte illuminotecnica e manca solo quella idraulica, dopodiché verrà gettata in tutto il suo, la sua pienezza e quindi nel giro di una settimana anche questa sarà pronta. In questo momento come vedete gli operai stanno appunto lavorando su via Polloni dove già stanno facendo la predisposizione di quella che è tutta la parte delle fognature e quindi la parte delle condotte. È stato già fatto il getto in calcestruzzo che appunto sarà la parte di sottofondo dove poi verranno applicati i selci, i selci che sono già disponibili, quindi la prossima settimana lavoreremo proprio per terminare questa parte, permettere poi anche alla struttura qua di Palazzo Marcolini di poter essere agibile anche nelle attività educative che contiene. Successivamente a via Polloni passeremo invece in via dei Borgoggelli quindi dall'altra parte dove si farà lo stesso lavoro e quindi verrà prima lavorata tutta la parte dei sottoservizi e successivamente verrà smantellata la pavimentazione per poi riapplicare sottofondo di calcestruzzo nuovi selci e poi proseguire invece sulla famosa piazza che sarà l'ultima area perché come vedete oggi viene come dire anche utilizzata come area di cantiere proprio per appoggiare le merci e in questo caso anche qui la sottopavimentazione è pronta, già ci sono dei tagli per quanto riguarda le aiuole che sono già stati definiti, è in corso la potatura delle piante perché questo è il periodo giusto per poterle fare, devono terminare solo due alberatura e poi siamo completi, gli arredi arriveranno per fine dicembre per cui mi sento di dire che il cantiere sicuramente ci verrà restituito per fine gennaio nel suo splendore dove saremo pronti poi ad accogliervi tutti.